Radio Radicale, siamo con il senatore Antonio Nicita del Partito Democratico, che è stato anche membro della G-Com, per parlare con lui del Consiglio di Amministrazione di Tim che si è svolto domenica e che ha visto approvata il mandato per la vendita della rete al gruppo americano. Io lo dico in maniera italiana, KKR, così si capisce bene, che ha provocato un'alzata di scudi di non solo Vivendi, ma anche di un'altra società che volevano che l'Assemblea degli azionisti votasse questa scelta. Allora, io le volevo chiedere un giudizio su come si sono svolte le cose, se il Consiglio di Amministrazione poteva prendere una scelta anche che non è stata presa all'unanimità, credo che ci fossero tre voti contrari. Allora, come ha trovato questa scelta e adesso che cosa succede? Perché restano anche altre partite aperte sulle quali il Consiglio di Amministrazione non ha dato il via libera. Sì, ma iniziamo innanzitutto dicendo che un conto sono le scelte aziendali, sulle quali ovviamente possiamo anche esprimere un'opinione su ciò che ha fatto il Consiglio di Amministrazione, su quelle che sono le scelte di una società che è una società privata come Team. Altra cosa è la circostanza su cui noi insistiamo molto, che tutta questa che è un'operazione che parte in un contesto, diciamo, esclusivamente di rapporti privati, in realtà è il frutto di un disegno di politica industriale nella quale, rispetto alla quale, il governo italiano ha una grandissima responsabilità perché di fatto si sta accompagnando, si sta facendo la scelta motivata da ragioni finanziarie prevalentemente di una cessione della rete, quindi di una separazione verticale tra rete e servizi del nostro incambio internazionale di telecomunicazioni, quando la spinta al disegno, diciamo così, che anche negli anni passati abbiamo fatto era quello di creare una grande rete aggregata nazionale e quindi di utilizzare la separazione tra rete e servizi come un rimedio possibile antitrust rispetto ad una grande operazione di concentrazione, mentre qui si è fatto esattamente l'inverso. In più, ci sono tutta una serie di incertezze dovute alla litigation di Vivendi, del socio di Vivendi, che sostiene di non aver avuto rispettati i propri diritti. C'è una contraddizione continua e costante tra, per esempio, la posizione di Giorgetti e quella di Urso. Giorgetti fa delle dichiarazioni, come dire, noi abbiamo assistito ad un'operazione sulla quale poi possiamo entrare in un secondo momento, mentre Urso la rivendica come operazione industriale, che poi è anche un riverbero sotto il profilo della litigation rispetto al discorso delle famose parti correlate all'interno del Consiglio di Amministrazione. Insomma, c'è una grandissima confusione, un'operazione che non ha nulla di industriale. Era possibile percorrere altre vie, cioè misure che intanto avrebbero potuto, come dire, permettere a telecomunicazioni di andare avanti rispetto alla crescita del debito e in più immaginare un disegno di antitrust coerente, applicando alcune regole, alcune dottrine, in particolare sulla Fearing for Defense cosiddetta, per permettere, in una situazione di difficoltà, di avere davvero una rete nazionale, soprattutto una rete nazionale in cui c'è un importante controllo pubblico, cosa che adesso non si prospetta. Allora, come ha trovato l'offerta di 22 miliardi? È un'offerta congrua a suo modo di vedere. E ieri, quando ha visto l'andamento azionario di Tim, cosa ha pensato? Vabbè, l'andamento azionario si... C'è l'altalena di ieri. Sì, si aspettava, ma è una situazione di incertezza che continuerà, perché gli azionisti e il mercato vogliono sapere che cosa paga con quell'azione, cosa resterà dietro quell'azione in prospettiva. Quindi, da questo punto di vista, l'altalena durerà a lungo l'incertezza. Dopodiché, la questione della valutazione è complessa, perché appunto qua bisogna capire qual è il valore che si sta inglobando, se è il valore della rete attuale, se è il valore di una rete futura. La circostanza che in qualche misura si investa semplicemente per 5 anni da parte di KKKR senza, come dire, avere delle garanzie di investimento di lungo periodo, anche questo sul valore dell'impresa crea qualche problema. Il problema è anche il perimetro della rete. Oggi fare questa distinzione così netta, tra la rete fissa e la rete mobile nel contesto del 5G e poi del 6G e in generale delle nuove architetture di rete, è davvero limitativo e limitante. In più, non sappiamo che impatto avrà tutto questo rispetto agli investimenti finanziati col PNRR. Ricordiamo che stiamo parlando di circa 5 miliardi di euro. Insomma, è un'operazione che, intanzi di tutto, è contraria a quello che il governo aveva annunciato, perché questo governo aveva annunciato già nella scorsa legislatura, c'è queste forze di maggioranza che avevano annunciato nella scorsa legislatura, di voler portare ad una rete sotto il controllo pubblico e soprattutto ad una grande rete aggregata nazionale. Oggi non c'è niente di tutto questo, c'è una telecom più povera, più incerta e che genera grandi preoccupazioni per l'innovazione e per i lavoratori. Il perimetro del mandato del Consiglio di amministrazione è quello di concludere l'accordo entro l'estate. Lei pensa che questo... Sì, io mi auguro una cosa, adesso al di là di come andrà, io mi auguro che a questo punto oggi ci sono dei contorni chiari, cioè c'è il contorno dell'offerta KKR, KKR, c'è l'idea della rete separata, c'è l'idea di una grossa litigation possibile con Vivendi, c'è l'idea di costruire una rete nazionale e di aggregarla. Ecco, mettiamo insieme tutte e tre queste cose per cercare di far sì che possano avvenire con un disegno diverso, cioè che innanzitutto si possa trovare un qualche accordo che dà certezza giuridica, che magari anche la separazione della rete possa avvenire in un contesto in cui si ridisegna il perimetro in modo efficace, e soprattutto come conseguenza, noi insistiamo molto su questo, la separazione della rete come conseguenza e quindi come rimedio antitrust ad un'aggregazione fra reti concorrenti, prevalentemente team e open fiber, ma non solo, cioè di una società delle reti nazionali aperte a tutti. Le questioni ancora da definire quali restano? Quella di open fiber e di telco? No, vabbè, le questioni sono tutte da definire, nel senso che è da definire quella di open fiber. Per la quale il Consiglio di amministrazione ancora non ha detto... No, ma quella è un'ipotesi che non riguarda il Consiglio di amministrazione, ma quella è un'ipotesi che riguarda, diciamo così, cioè la parte di incertezza riguarda, come dire, la valorizzazione di quel tipo di investimento e che cosa accadrà. Dopodiché c'è un tema di compagine di soggetti che dovranno, c'è anche F2I, che hanno dichiarato che stanno realizzando un fondo per investimenti ad hoc su questo, ma soprattutto l'incertezza principale riguarda il fatto che, siccome questa decisione avviene in un contesto non solo di incertezza di policy pubbliche, ma anche di incertezza di litigation con il principale socio di minoranza e con tutti gli altri azionisti che potrebbero, voglio dire, adire alle vie legali, siamo in un contesto, come dire, di grande incertezza. Io, il mio suggerimento è partiamo da qui, sediamoci, facciamo un grande respiro e proviamo a ridisegnare e riaggiustare alcune questioni. Se lei fosse stato il presidente del CdA, si sarebbe rivolto all'assemblea degli azionisti? Ma, diciamo, questo dal punto di vista giuridico, c'è un paradosso, mi limito a dire questo, poi ognuno fa le sue considerazioni, non ho letto i pareri di chi sostiene il contrario, però l'azionista è un proprietario. La rete di Telecom Italia, per quanto fosse già, diciamo, su FiberCop, e non ci fosse una modifica dell'oggetto sociale, però è una rete talmente importante che su di essa lo Stato applica una legislazione speciale che si chiama Golden Power, che può limitarne fortemente l'utilizzo. Quindi abbiamo una rete che ha un valore talmente straordinario che lo Stato impone a qualunque privato dei condizionamenti sull'uso della proprietà e i proprietari, che sono gli azionisti di questa rete, devono poter registrare la cessione senza esprimere un parere su questo. Io lo trovo un po' diciamo bizzarro e paradossale, come se ciascuno di noi dovesse avere, fosse proprietario di una casa importantissima, dove c'è una stanza di grandissimo valore al punto che lo Stato impone delle situazioni speciali per quella stanza, ma laddove decidessimo di venderla non abbiamo voce in capitolo. È una situazione particolare, tant'è che è una situazione unica, non mi risulta si sia mai realizzata. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre, ringrazio il senatore Antonio Nicita del Partito Democratico, col quale abbiamo parlato della decisione di domenica scorsa del CDA di Team di accettare l'offerta di KKR sulla rete di Team. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.